È una serata tra compagni di squadra, oltretutto col benestare della società, è stata descritta come l'Iris, nottata brava. Tante volte i calciatori e il calcio portano visibilità, poi sul giornale è bello parlare anche magari perché così poi vai a dire in giro ah vedi io sono finito sul giornale. Ecco, quello che è successo è tutt'altro, questo si può confermare anche parlando magari poi con chi di dovere. Ripeto, è successo che noi siamo andati come squadra a fare una serata, nella settimana in cui non si giocava, e a luna avevamo il permesso della società di andare via, avevamo il permesso fino a luna di andare tutti a casa. Noi siamo ragazzi tra i 36, qui metto io l'unico, assieme a Carfora, e i 18, ecco, una serata fino a luna penso che ci si possa concedere. Poi il resto sono chiacchiere, basta.